Quale è questo? Ma che cazzo è? Fa schifo Che cazzo ne so? È un casirea Ma è che strada è finita Che cazzo dice una piegata? Porca puttana! Lo sto cercando di trappanare il meglio possibile Ragazzi, come avrete visto all'inizio è un video fantastico pieno di epicità allo stato puro Lasciate un like per supportare tutto il lavoro fatto fino ad ora Buona visione Beh ragazzi che poi bentornati Oggi siamo qua con il grandissimo colpo Dopo alle preparazioni che avete visto nei giorni precedenti Siamo qua ancora con Gesù che saluta Bello e tutti ragazzi Se vuoi iniziare per me è uguale Iniziamo subito Sono un po' emozionato Dai il nostro primo colpo Ok adesso lasciamo andare Oh cazzo è tutto sto rumore Che cazzo è che sto dicendo? Eh è un po' emozionato anche lui Perfetto 143 mila dollari La ricompensa Oh iniziamo E ci sta Vai continuo Mamma mia ragazzi Oh ma che cazzo è troppo epico Ho già paura Ma come cazzo siamo vestiti? Ok vai facciamo questo Quale? Quale? Ma che cazzo è? Va bene Fa schifo Che cazzo ne so? È casino con la base Non ci ricominci No ma metti la semplice Con la tassa montagna Ok perfetto Vai Metti pronto Pronto per giocare raga Pronto per giocare Ma iniziamo Iniziamo il colpo Oddio Guarda Guarda Ma non so Come fai Non amare sto gioco? Oh Oh fai conto che non so Che cazzo devo fare Ne Allora Neanch'io più di tanto Allora raggiungi a farmi una richiesta Ok dobbiamo raggiungi a farmi una richiesta Allora dobbiamo andare bene Nella macchina Quella Blinda Ma a me mi ha manchiamato Troppo bene Oh Andiamo 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 Ok Adesso Mi ricordo Perché qualcosa mi ricordavo Del colpo Devi hackerare col cellulare Tra poco dovrai hackerare qualcosa col cellulare Ma me lo dice Ah si ok ok Ma che cazzo devo fare? Eh tu devi Devi scassinare Devi scassinare La 167 Che cazzo devo fare? Ah sei già col cellulare Sì Ma che cazzo Eh credo che capirai da tua Perché adesso non so se è la stessa Presumo di sì Così a me è troppo impestato Beh ci hai capito? Sì Ok è bello No perché l'ultima volta Quando ci ho giocato Con un tizzo A cazzo Ci ho spiegato a meno mezz'ora E non è neanche riuscito Non so se è la stessa Ma che cazzo è la stessa Mamma mia È il primo colpo Mamma mia A secondo Cioè Mamma mia Ho fatto tutto giusto Io cerco di non andare dentro Come un altro Cerco di non andare dentro E la macchia Mi sa appena schiantato Ma vabbè Non sei rovinato Vabbè vabbè Non sei rovinato Quante cazzo ne devo fare? Tre almeno Porco cane Due sbagliati Porco puttana Sì che è peggio di giochi di scheletro Ok secondo fatto Ok c'è un terzo Che coglioni Eh sì sono tra E ti ho detto Ma aspetta Dove cazzo Ah si parte Aspetta Questa qua è un po' più difficile Degli altri Oh porca troia Ah che strada è finita Che cazzo dice C'è una pegata Porca puttana Aspetta Non ti dico niente Perché se no Porca puttana Sbagliato ancora Qua non finiamo più No Tu devi finire Cazzo Oh è l'ultimo silenzio Che ce la dobbiamo fare Eh sì Eh su chiamalo Grande figa No un altro Ah no ok Cosa ho fatto Ok perfetto Sistema infiolati Protocollo di sblocco Scaricato Perfetto Dove ho fatto Ok sta sbloccando Ok si è sbloccata Ok si è sbloccata Indossa la masca Andiamo Andiamo Ok si è sbloccata Ma è fatto Si è sbloccata Si è sbloccata Si è sbloccata Ok Eh cazzo Sta mettendo dentro la roba Ok Sto controllo i testimoni Ok Si sto controllo Ok 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 Stai scassinando Aspetta Come cazzo Che si fa Eh allora Ma io sto controllando Ma aspetta il trapano si surriscalda Lt è figa è stra difficile Perché il trapano si surriscalda Ma il trapano è in il tuo tempo Tanto l'allarme non è ancora scattato Gli ostaggi li sto tenendo a bada io Sei tranquillo Oddio che coglioni Devo tenere a bada sti cazzo i testimoni Cioè più tre altri devo tenere a bada Oh cazzo volete fare Sono tre testimoni ma non si sa mai Eh perché devo far riscaldare il trapano E poi trivellare E poi fare riscaldare il trapano E poi trivellare E figa è stra lungo sto processo Eeeh dettagli dettagli Se questi vogliono farne i furbi E non vogliono avere un proiettile in mezzo al cervello Non faranno cazzate Hai perso la cassetta? Eh non ancora Ok ho sentito un rumore Ma vado Adesso sono troppo emozionato No sono troppo emozionato Lo sto cercando di trappanare il meglio possibile Ho capito come fare Bella Ho capito ho capito sto trivellando strabravo Io sono qua con la tappa fa di cazzo Ok un pezzo l'ho staccato Oh oddio ce l'ho fatta Secondo pezzo staccato Vai 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 Oh cazzo Vado 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 Terzo pezzo staccato Vai 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 Manca l'ultimo Vai che prendiamo i big money Ci andiamo a fanculo da qua cazzo Ultimo pezzo staccato Ultimo pezzo staccato Oh scappa 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 Porca puttana Arriva la pula Arriva la pula Me lo sento Merda zì Merda beh sì Cazzo se lo senti Dai 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 Sali 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 Porca puttana Scappa Scappa Sacappa Scappa Puttana Tre stelle Devo sparare Non so che cazzo fare Mio papi raggiungi punto di controllo Bu a cazzo raggiungi punto di controllo Dai figa Dai 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 Devo sparare Non so che cazzo fare Si 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 spara Babbè si si Spara Dietro 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 Porca puttana Ecco non posso neanche leggere che cazzo c'è scritto? Aspetta aspetta io ho letto zancudo Oh no figa non leggere un cazzo Vai vai tu vai Cazzo c'è tu ho letto un cazzo tipo Eh mio uomo for zancudo o qualcosa del genere Ecco già questo Mi sa che dobbiamo fare oh merda Porca PODO Sta cazzo di macchina Oh basta che vai straveloce E adesso e che cazzo Bella bella figa Mamma mia che picco Mamma mia che picco Fatto c'è un elicottero c'è un cargo Buon cazzo Eeeh Si 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 Guarda dove siamo agganciati Ma che cazzo è? Guarda come siamo agganciati What the fuck mamma mia Mamma mia Ma che cazzo Ci è arrivato un cargo di merda Ci è arrivato un cargo di merda Ci ha preso Scappiamo così in grande stile Oh mamma mia Ahi Abbiamo fatto Oh super figo Basta Sfida litte non completata Ma si cazzo Bonus prima volta 171 171 Mila Fottutissimi 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 dollari Mamma mia quante roba mi ha sbloccato Quindi Questo colpo È finito, andate a vedere le pagine C'è in descrizione, pagina Facebook Pagina Instagram e pagina Twitter se ce l'avete Quindi qui da Paul e Gesù è tutto per questo videozzo Bella Bella